ciao a tutti per chi non avesse visto il tutorial mi ripresento mi chiama ornella matucci e vivo a casa borgone sono una ceramista spero che in questo periodo di quarantena sia stato per voi un'opportunità per coltivare le vostre passioni che magari per mancanza di tempo non avete mai coltivato oppure chissà scoprirne anche altre la mia passione per la ceramica arriva dall'adolescenza mio zio che abitava faenza mi portava sempre a vedere i laboratori di ceramisti famosi e artisti famosi della ceramica come sapete faenza è la pulla della ceramica per me era bellissimo vedere come con lo stesso materiale con l'argilla si potesse spaziare con la fantasia ottenere risultati e oggetti diversi si possono ottenere tazze bicchieri oggetti di uso quotidiano piatti teiere oppure oggetti decorativi per la casa piatti da prendere basi oppure gli artisti si esprimevano con la loro creatività e fantasia e con la loro arte attraverso proprio questo materiale la manipolazione di questo materiale ottenendo risultati straordinari se vi siete incuriositi e vorrete venire a visitare il mio laboratorio che è molto piccolo ma essenziale funzionale sarà mio piacere spiegarvi i vari processi di lavorazione contattatemi per un appuntamento attraverso il mio profilo personale ornella matucci oppure attraverso la pagina facebook dipinto di blu auguro a tutti di cuore una buona ripresa e buona fortuna ciao a tutti e a presto a presto